Ben trovati con una nuova edizione del nostro TG Abruzzo, notiziario a firma e cura della redazione di Vera TV, Malore in mare, una donna è morta annegata a Torino di Sangro. Vediamo. Avrebbe compiuto 64 anni il prossimo 24 luglio la donna che è annegata nel mare dell'Idole Morge a Torino di Sangro in provincia di Chieti. Si tratta di Nicoletta De Titta di San Teusanio del Sangro che insieme a una compaesana settantenne stava facendo una passeggiata in acqua, profonda a meno di un metro di altezza, quando improvvisamente è accusato un malore ed è caduta in mare. Anche la mica è stata trascinata in acqua ma si è rialzata senza conseguenze. Non è stato così per la 64enne collaboratrice scolastica all'Istituto Superiore De Titta Fermi di Lanciano che è stata immediatamente soccorsa dai bagnanti, tra cui due sanitari presenti in spiaggia, quindi dal personale dei vicini stabilimenti balneari che con un defibrillatore hanno iniziato le manovre di rianimazione. L'intervento di soccorso è proseguito successivamente con l'arrivo del 118 ma senza esito. In totale una quarantina di minuti di manovre salvavita che non hanno prodotto l'esito sperato. Vano anche l'arrivo dell'elisoccorso da Pescara, il dramma si è consumato poco prima delle 7 del mattino. Sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto di Vasto, della locale stazione dei Carabinieri, i vigili del fuoco di Lanciano. Presenti anche sindaci di Torino di Sangro, Nino di Fonso e di San Teusanio del Sangro, Raffaele Verratti, che hanno espresso il cordoio delle loro comunità. Con molta probabilità la vittima potrebbe aver accusato un improvviso infarto dal momento che gli uomini del Circomare non avrebbero trovato criticità sul livello del fondale sabbioso in merito a buche o pericolosi dislivelli. La procura di Vasto ha disposto il rilascio della Salma per le esequie. Processo grandi eventi a Pescara, sei condanne quasi del tutto accolte. Le richieste del PM Luca Sciarretta. Pene severa nel processo grandi eventi a Pescara per l'assegnazione di concerti e di spettacoli con sei condanne quasi del tutto accolte le richieste del PM Luca Sciarretta, mentre per la dipendente Asla Leila Colucci il PM aveva chiesto la soluzione. Giunta dopo una lunga udienza la sentenza del processo sui grandi eventi a Pescara con la replica a fiume del PM che in quasi tre ore ha ritenuto di dover puntualizzare su parecchi temi emersi nelle arringhe difensive. Poi le controrepliche prima della lettura del dispositivo del giudice Marina Valente che ha deciso per la condanna a quattro anni e otto mesi per l'ex assessore comunale Giacomo Cuzzi, quattro anni e quattro mesi per altri due ex assessori comunali di Pescara, Moreno di Pietrantonio e Simona Di Carlo. Quattro anni all'imprenditore Cristian Summa, quattro anni e due mesi per il promotore musicale Andrea Cipolla e due anni pena sospesa per i due suoi collaboratori Gianfranco Berardinelli e Alessandro Michetti. Nella sua replica il PM Luca Sciarretta ripercorso punto per punto quelle che sono state le vicende dal 2014 al 2019 per le quali gli imputati si sarebbero resi protagonisti di condotte perseguibili in base ad ipotesi di reato che andavano dalla corruzione al finanziamento illecito dei partiti, alla turbata libertà degli incanti e turbata libertà nella scelta del contraente. Si sarebbe imposto al comune di Pescara, per quel che riguarda concerti e spettacoli, una sorta di regime di monopolio con una ventina di eventi affidati tutti a Cipolla o a società a lui collegate. In cambio l'allora assessore Cuzzi avrebbe avuto ad azioni e perfino voti un accordo corruttivo anche nel rapporto tra l'altro imprenditore Cristian Summa, Moreno Tipieta Antonio e Simona Di Carlo. Anche qui d'azioni in cambio di favore. Le sentenze non si commentano, ha dichiarato a caldo Massimo Galasso, legale di Giacomo Cuzzi. Posso soltanto dire che ricorreremo certamente in appello perché non condividiamo questa sentenza. Stesso tono per Ugo Di Silvestre, legale di Cristian Summa. Siamo curiosi di leggere le motivazioni di una sentenza che non ci convince affatto. Aspettiamo 90 giorni e poi imposteremo la strategia per il ricorso in appello. Abruzzo, Rovente, per il caldo a Pescara, ancora Bolino Rosso, termometro vicino ai 39 gradi. Castiglione a Casauria, invece, tra i centri più torridi. Abruzzo, ancora Rovente, dopo le temperature record registrate nei giorni scorsi, ancora con il termometro, che ieri ha raggiunto valori altissimi. Il caldo estremo interessa sia la costa che l'entroterra. Farla da padrone e la fa pescare. È stata per la quarta giornata consecutiva una delle città italiane. Con il bollino rosso del Ministero della Salute sono le conseguenze del rafforzamento dell'anticiclone africano su tutta l'Europa. Una situazione che, si legge su meteo.it, durerà almeno fino al prossimo weekend. Nel capoluogo adriatico è previsto ancora il livello 3, che indica condizioni di emergenza, ondata di calore, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio. Secondo le rilevazioni dell'associazione Caput Frigoris, ieri sono stati raggiunti 38 gradi a Castiglione a Casauria, a Pescara, 38,2 a Bussi sul Tirino e 37,7 a Popoli, tutti in provincia di Pescara. Termometro oltre i 30 gradi anche nelle località di Montagnal, di sopra dei mille metri. Nonostante le temperature elevate, il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile definisce basso il rischio incendi in tutte le province. Il territorio deve fare i conti anche con l'emergenza idrica. I gestori del servizio, visti i decrementi di portata delle sorgenti e i sovraconsumi causati dalle alte temperature, hanno programmato chiusure e riduzione del flusso idrico con conseguenti disagi per gli utenti. Gli esperti di abruzzometeo.org parlano di condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, caldo e afa lungo le coste, temperature elevate sulle zone interne nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni. Tempo stabile e temperature ben al di sopra delle medie stagionali, almeno fino a venerdì. Crisi idrica in regione, acqua a rotazione in Valle Peligna, firmato il protocollo in prefettura all'Aquila, a Chieti permangono le chiusure, chiesti tre punti di rifornimento di acqua potabile con le autobotti, il sindaco Ferrara, inutile incatenarsi. Sergio Cinquino. Continua la crisi idrica in regione, in provincia dell'Aquila, saranno create tre macrozone con sette distretti interni nelle quali l'erogazione dell'acqua sarà disciplinata a rotazione con interruzioni del servizio irriguo per permettere il riempimento della vasca di compensazione. La decisione, stata presa in prefettura all'Aquila per fronteggiare la crisi idrica in Valle Peligna, per razionalizzare l'uso dell'acqua ed evitare gli sprechi, è stato firmato un protocollo di intesa tra il prefetto Giancarlo Di Vincenzo e i sindaci di Bugnara, Entro d'Acqua, Pacentro, Pettorano Sul Gizio, Prato La Peligna, Rocca Casale e Sul Mona. L'accordo prevede la suddivisione del territorio in zone di competenza con orari precisi in cui erogare l'acqua in modo tale da garantire una rotazione tra i comuni. Hanno firmato il protocollo anche il Consorzio di Bonifica Interno, Bacino, Aterno, Sagittario, Confagricoltura, Coldiretti e Confederazione degli Agricoltori Italiani. La prefettura dell'Aquila, scrive il prefetto Di Vincenzo, in un'ottica di collaborazione istituzionale, si impegna a promuovere verifiche di monitoraggio e a riassumere ogni elemento informativo utile alla gestione della siccità con l'apporto di una cabina di regia composta da tutti i firmatari del protocollo. Intanto continuano le chiusure dell'acqua a Chieti dove il sindaco Diego Ferrara si appresta a chiedere tre punti di rifornimento di acqua potabile con delle autobotti uno nella città alta e due a Chieti Scalo e sta predisponendo un'ordinanza che è stata sollecitata anche da ACA per un utilizzo responsabile dell'acqua. Per il capoluogo teatino si prospetta ancora un periodo di turnazione delle chiusure idriche. C'è una congiuntura particolare con una risorsa impoverita del 40% rispetto allo standard. Dice abbiamo soluzioni strutturali che sono la digitalizzazione delle reti e il rifacimento dell'aduttrice per Chieti che sono progetti finanziati che in parte sono già iniziati ma che porteranno frutto tra il 2025 e il 2026 ha detto Giovanna Brandelli presidente dell'ACA. Ferrara che in un primo momento aveva prospettato una class action contro ACA è tornato sui suoi passi. Credo di poter dire dice che sono il primo e finora l'unico sindaco dell'assemblea dei 64 comuni serviti dall'ACA a voler chiedere di aver ottenuto la presenza della presidente Brandelli e del suo staff per rispondere direttamente ai quesiti e ai dubbi dei miei concittadini ha sottolineato ritengo che la richiesta fatta da tanti abitanti di Chieti ad incatenarmi davanti all'ACA sia oltre che esagerata anche inutile e inopportuna. Calcio Serie C il nuovo Pescara è ancora un cantiere al lavoro il direttore sportivo Foggia che ha sostituito Dell'Icarri la squadra Suda intanto a Palena Sergio Cinquini è un Pescara tutto nuovo quello che ha iniziato la stagione 2024-2025 a Palena nel ritiro che almeno quello già in passato che ha caratterizzato le prime sgambate dei biancazzurri nuovo l'allenatore Silvio Baldini arrivato questa settimana e presentato domenica nella sede dell'EcoTel di Città Sant'Angelo nuova la squadra per larga parte ancora incompleta e con diverse pedine mancanti per completare lo scacchiere del tecnico toscano e diversi pezzi della vecchia squadra partiti per altri lidi e nuovo il direttore sportivo l'ex Benevento Pasquale Foggia che a sorpresa ha sostituito subito dopo la partenza per Palena Daniele Dellicarri che del mercato ha portato a termine la prima parte in particolare per quel che riguarda le uscite dei vecchi protagonisti della passata stagione non ci saranno più i difensori Mesic e Milani passati nella prima divisione olandese oltre al promettente di Pasquale in partenza anche Pierno verso Campobasso probabile destinazione in attacco addio anche al generoso Cuppone che andrà con contratto triennale al Cerignola con la società che punta sull'ex Nicola Rauti per rimpiazzare l'attaccante ma piace anche l'islandese Carlson del Venezia mentre per il momento Merola bomber della squadra nella passata stagione non è partito con il gruppo pare per un problema fisico ma sulle sue tracce resta il Cesena e ora c'è anche il Catania che vorrebbe prenderlo probabilmente anche con un'offerta migliore rispetto al Cesena infine nuovo di Zecca anche il calendario con l'inizio del torneo previsto per il 25 agosto i Biancazzurri impegnati a Terni prima gara casalinga la settimana successiva con la Torres all'Adriatico prima della trasferta di Rimini nella terza giornata mentre la sfida nel derby con il Pineto che comincerà in casa con la Lucchese è prevista il 24 novembre all'Adriatico il match di ritorno a Pineto Pescara si giocherà invece il 6 aprile al Pavone Mariani Calcio Serie D giovedì il Teramo comincerà la preparazione estiva per preparare la nuova stagione il 27 luglio prima amichevole contro il Torricella Sicura Giussi Cinguri il città di Teramo inizierà la preparazione precampionato giovedì 18 luglio al Besso di San Nicolò la società comunicherà a breve l'elenco dei convocati che dopo le visite mediche inizieranno a sudare appunto sul campo sintetico di San Nicolò a Tordino la prima uscita stagionale il 27 luglio alle 17 a Torricella Sicura contro la locale formazione il 31 luglio contro il Mosciano al Besso il 3 agosto match contro la Casertana a Roccaraso il 7 agosto contro il Montorio al Pigliacelli il 13 agosto amichevole contro l'Andri ancora a Montorio la rosa del Teramo è da completare con l'innesto di altre pedine sia a centrocampo che in attacco il difesore Tiago Menna 2004 dalla Vastese l'esterno destro di centrocampo 2005 Alex Loncini dal Sud Tirol per entrambi si attende l'ufficialità in Mediana ci sono stati contatti con Cosimo Forgione ma con lui è difficile da trovare l'accordo economico e l'ex San Benedettese Cristian Barberini ci sarebbe anche la possibilità di un ritorno in bianco-rosso di Lorenzo De Grazia svincolato ma il giocatore preferirebbe rimanere in Serie C per il reparto avanzato si continua a seguire la pista di Stefano Salvatore classe 2003 esterno d'attacco ex Chieti come vi avevamo più volte anticipato ieri mattina il città di Teramo ha annunciato ufficialmente l'accordo raggiunto con Sapori Veri azienda leader nel settore dolciario a livello nazionale di Luciano Campitelli che sarà uno dei principali partner di maglia del club per la prossima stagione l'ex presidente del diavolo si riavvicina alla società che ha guidato dal 2008 al 2019 insieme al cugino Ercole Cimini con Ercole avevamo il desiderio di offrire un contributo fattivo rivolto alla squadra della città il pensiero di Luciano Campitelli in veste di tifosi affezionati con i cuori sempre accesi da questa ardente passione Teramo dice Campitelli e Teramo Calcio sono sempre nei nostri cuori era l'ultimo servizio il TG Abruzzo termina qui grazie per averci seguito buon proseguimento con la nostra programmazione per averci seguito